Ha lavorato per tanto tempo alla sua opera l'artista placanichese Vincenzo Franco, riflettendo e meditando su un evento soprannaturale avvenuto a Santa Domenica di Placanica e destinato a influenzare positivamente le sorti di milioni di persone a livello mondiale. Ci riferiamo dell'apparizione della Madonna a Fratel Cosimo, avvenuta per la prima volta l'11 maggio del 1968. Vincenzo Franco è un poliedrico artista placanichese, classe 74, curioso ad estroverso, ha frequentato il liceo artistico statale di Siderno per poi diplomarsi all'Accademia Belle Arti di Roma, dove si è specializzato in pittura. Nella capitale, soggetto che torna spesso per le sue opere, ha lavorato a Cinecittà, dove si è occupato per tanti anni di pittura scenografica prima di tornare nella sua terra natale. Qui, in virtù di un'esauribile fonte di creatività e un'innata passione per la grafica, ha continuato il suo percorso formativo, frequentando corsi di grafica pubblicitaria, web designer e web master. L'opera che ha voluto donare recentemente al Fratel Cosimo è veramente bella e ricca di significato. È il dipinto, infatti, in un'esternazione di espressioni di una sua visione interiore e dei suoi ricordi dell'esperienza di Nostra Signora dello Scoglio. Del resto, Vincenzo, che si definisce un artista eclettico, ha una notevole profondità morale ed artistica. Nella sua vasta produzione è sempre riuscito a spaziare dall'aerografia della scultura, dalla cartapesta alla pittura decorativa. L'opera donata al Fratel Cosimo nell'esempio, visto che è realizzata in toto da lui.